Musica Quest'anno 2018 l'organo Tamburini di San Pio X compie i suoi primi 50 anni è del 1968 costruita appunto dalla ditta Tamburini di Brescia e è stato acquisito dalla parrocchia di San Pio X nel 1993 quando il parroco era Don Ulisse Bresciani e sicuramente è arrivato qui attraverso la donazione di un parrocchiano che è sempre rimasto nell'oblio Musica Il concerto di stasera ricalca quello dell'anno scorso con una parte dedicata all'organo e una parte con l'organo gli ottoni e alla fine la gente ci aiuterà cantando ad Este Fideles ci sarà una sorpresa con un brano fatto col pianoforte con un commento di Don Nicola Gardusi che è uno dei parroci insomma di questa parrocchia Cosa c'è di più universale di una nascita? Tutti la conoscono Che cosa c'è di più universale delle stelle? Tutti hanno prima o poi guardato il cielo per cercare qualcosa Dietro quella stella comunque c'è una forza che ti attrae una forza che ti porta fuori da te una forza che ti conduce a una verità In più voglio dire che quest'anno sono 25 anni che questo concerto si tiene ogni anno a gennaio Musica 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 Musica